E' terminato da pochi minuti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Pescara Genardina Basilicata con i sindaci della provincia di Pescara e le forze dell'ordine per affrontare l'emergenza coronavirus nel paese. Bisogna dire che però in Abruzzo e in provincia di Pescara non si registrano criticità in mancanza di persone colpite dal coronavirus. Ci sono state però delle raccomandazioni da parte del Prefetto per quanto concerne l'accesso delle persone nelle scuole e negli uffici pubblici e anche da parte dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. E' stato però ribadito di non farsi prendere dalla psicosi del coronavirus perché in questo momento in Abruzzo la situazione è di assoluta tranquillità. Al momento assolutamente è stato presente alla riunione anche l'assessore alla sanità della regione Campania. Anche lei ha confermato soprattutto lei a conoscenza dei dati che al momento non ci sono casi di contagio di coronavirus quindi siamo una di quelle regioni non cluster diciamo nelle quali alcune statuizioni che sono state prese dal Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Sanità non riguardano questa regione. Regolarmente aperte le scuole, regolarmente aperti gli uffici pubblici? Assolutamente, anzi proprio di questi minuti è arrivata, io non ho avuto ancora il modo di leggerla, una disposizione del Ministero per la pubblica amministrazione che dà indicazione sui comportamenti da tenere in caso di concorsi, in caso di uffici e quant'altro. Disciplinare meglio l'accesso, evitare, ecco questa è un'indicazione che anche a noi ha dato il Ministero dell'Interno a cui abbiamo ottemperato, evitare gli affollamenti, le aggregazioni, insomma che anzi io direi anche in tempi ordinari è positivo. Queste sono riunioni molto importanti, specialmente per dare delle spiegazioni a tutti i sindaci che sono presenti a questo incontro, alle forze dell'ordine, perché in questo momento è giusto che si stia creando anche un'ansia, oserei dire anche un panico, però approfitto di questi vostri mezzi per comunicare che non bisogna avere questa spasmodica situazione reattiva perché abbiamo delineato tutto quello che può essere un percorso ben definito se dovessimo avere un caso positivo. Ad ora in questo momento non c'è alcun caso per cui seguiamo in maniera ben precisa quelle che sono le linee che vengono mandate da Roma, che il Ministero ci detta, che la protezione civile ben collaborando, noi recepiamo senz'altro questi indirizzi, faremo delle ordinanze, ma in termini sanitari è ancora valida e fondamentale la circolare che il Dipartimento della Salute ha inviato a tutti i presidi e a tutte le aziende. I sindaci vengono ascoltati però hanno ricevuto le domande, le risposte ben precise alle domande, ad esempio è emerso se un albergatore può accogliere un cliente da un'altra regione, anche qui sono state date le dovute risposte, oppure se bisogna portare o usare un'igiene maggiore in locale, anche qui c'è una risposta positiva, affermativa, nel senso che la prevenzione è alla base.